E invece portiamoci sulla questione della chilella fastidiosa. Perché? Perché stanno continuando i mattacri di olivi secolari nella zona di Cistermino e Ostuni e siccome tutto questo avviene perché non c'è scienza dietro, perché mai nessuno ha dimostrato che abbassero un olivo, lo sapete questo fatto, ve l'ho ripetuto mille volte, afferma il batterio, che cosa accade? Accade che il corpo forestale dello Stato va a Ostuni e fa una multa di mille euro a un povero contadino che vende dieci piante piccoline di olivo e siccome in quella zona non si può fare perché hanno inventato questo decreto che ci deve essere la negazione, chi può vendere le piantine Davide? Chi può vendere? Soltanto chi è autorizzato e questo mi fa pensare che veramente, veramente dietro questa vicenda e invece ci sono interessi industriali e commerciali e la finisco qui perché altrimenti ci sarebbe da dire molte altre cose che io ho visto sui giornali numeri di telefono di venditori di piante. Invece a Ostuni un povero cristiano che ha venduto dieci piantine che hanno fatto mille euro perché sarebbe l'untore colui che diffonderebbe la xylella fastidiosa. Siamo veramente a uno psicodramma in questa vicenda della xylella dove la scienza che ha curato, che ha messo in piedi questa roba, andrebbe lei curata. Va bene?